Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV, iniziamo con la lettura dei quotidiani locali e iniziamo proprio dal quotidiano del Molise. In primo piano la cronaca, crisi, escalation di furti e borseggi, Balordo minaccia signora con la siringa, poi le ruba la fede, successo a Campomarino, a Isernia tossicodipendente sorpresa rubare aggredisce Poliziotto e ieri mattina anziana scippata in centro. Vediamo invece la politica, quinto assessore in giunta, le opposizioni a un abuso, consiglio a rischio, posizioni contro il presidente Frattura per la delibera che aumenta il numero degli assessori da 4 a 5, intanto il presidente ha convocato per domani l'esponente di Riazza di Molise, Cotugno. Taglia agli enti, sforbiciata per gli ACP e AST, Scarabbeo via la fin Molise, l'anniversario 25 aprile tra gli eroi Monsignor Bologna. Isernia, Brasiello si affida al passato e rispolvera il ponte, Boiano abuso d'ufficio prosciolti, sindaco e giunta, è l'ennesimo non luogo a procedere, soddisfatto l'avvocato Messere. Bomba in tribunale ma è una bufala, ha evacuato il palazzo di giustizia. Lega Pro di Palma invia un'email a Capone, non esistono condizioni, serie D, Memorial, Bevere, Termoli, impegnato, inamichevole. Vediamo le pagine interne del quotidiano del Molise. Nuovo governo, ruta, letta, è un uomo giusto per guidare la straordinarietà. Entusiasta è il senatore numero uno del PD, DL, del PD, scusate, a competenza e intelligenza politica. Enti sub regionali fuori di Falco e Verini. È l'effetto del nuovo processo di riorganizzazione dell'esecutivo Frattura, gli ACP e AST di Termoli affidati ai dirigenti. Il governatore abbiamo scelto figure professionali interne per una rimodernizzazione a costo zero. Asrem, il neodirettore generale Carmine Ruta al lavoro per la sanità al posto di Angelo Percopo. Fin Molise Scarabbeo inizia con i tagli e la società deve essere liquidata. La finanziaria ha costituito un proprio clone, un'anomalia molisana. Piani sociali di zona, Petraroi ha subito lo sblocco dei fondi per garantire le attività. Vediamo insieme pagina 3, quinto assessore, consiglio a rischio. Frattura nel mirino di Fusco, Cavaliere, Micone e Sabusco, la violazione delle norme statutarie, consentirebbe un ricorso allo scioglimento sanzionatorio come previsto dalla Costituzione. Il Presidente sotto accusa replica rispetteremo le regole interpellata l'Avvocatura di Stato e ancora Frattura Cotugno fissato all'incontro chiarificatore possibile rimpasto delle deleghe agli assessori. Il Movimento 5 Stelle pronto a rivolgersi alla magistratura, rinvio del Consiglio, il PDL accusa. Ecco, vediamo invece adesso il quotidiano online in forma a Molise. Società partecipate, assessore Scarabeola, fin Molise SRL, va messa in liquidazione. Finanziamenti a fondo perduto per microimprese e franchising. Rossella Perrella, nominata dirigente dello IACP. L'opposizione di centrodestra attacca Frattura sta compiendo un abuso. Ci riferiamo appunto all'allargamento di giunta. Assessore Facciolla, 470 mila euro per migliorare la qualità delle strutture e dei servizi offerti nei porti di Pesca. PD attacca di Bartolomeo in 4 anni solo in toppi senza nessun risultato. Ruta, grande responsabilità per Enrico Letta. Frattura enti sub-regionali tagliati, tutti i commissari. Bene, questa era l'ultima notizia del quotidiano online in forma a Molise. Vediamo insieme. Primo piano Molise. Enti regionali parte lo spoil system. Frattura annuncia la svolta, stop ai trombati eccellenti. Al vertice dirigenti a costo zero. Si comincia dallo IACP di Campobasso, Rossella Perrella, rimpiazza Francesco Di Falco, all'AS Daniela Battista. La deribera del quinto assessore è bloccato il nuovo statuto. L'opposizione insorge. Consiglio a rischio scioglimento. La minoranza a Palazzo Moffa alza le barricate. Anche i 5 Stelle chiedono che la magna carta venga subito promulgata. Boiano, in carico di alta specializzazione, assolta la giunta per il tribunale. Il fatto non sussiste. Isernia torna il ponte come nel 93 con Brasiello. Ora c'è pure l'Udc. Intanto di Giacomo Gela Fantozzi ha fatto votare. Fli, Benafro, Patricielio e Scarabeo blindano la candidatura di Mario Pietracupa, mentre il centrodestra corteggia Antonio Sorbo. Campobasso, allarme e bomba. Il Palazzo di Giustizia è evacuato. L'intero stabile dopo i controlli si scopre che è una bufala. Campomarino minaccia e rapina una coppia di non vedenti o una siringa infetta. Il malvivente porta via pochi spiccioli e la fede della donna. Invece una notizia che riguarda Vasto. Incendi dolosi in manette e il presunto piromane. Per la procura il 26enne, l'autore di numerosi roghi. Vediamo invece lo sport. Lega Pro Lupi di Palma rinvia una nuova e-mail a Patron Ferruccio Capone. Il Vicentino, se lunedì vuole, possiamo chiudere. Ciclismo, Giro d'Italia, Pollonio sarà in astri di partenza. L'Isernino torna in rosa dopo un anno di assenza. Vediamo anche qui le prime pagine interne. Enti regionali, consiglio di amministrazione a costo zero. Lo spoiler system parte dallo IACP. Via di Falco arriva la dirigente Rossella Perrella. All'ast Daniela Battista al posto di Verini. La ristrutturazione appunto. E ancora Frattura confessa. Quinto assessore si può fare. Il centrodestra alza le barricate contro un abuso. L'opposizione avverte se non promulga lo statuto. Assisi al rischio scioglimento, i 5 Stelle annunciano battaglia. Task force sull'occupazione via libera di Petraroia. Asrem, primo giorno di lavoro per il dirigente Carmine Ruta. Vediamo invece pagina 3 quel 25 aprile. Sangue versato per la democrazia. Il Molise festeggia la liberazione a Palazzo Santoro. La cerimonia organizzata insieme a Lampi per ricordare la sconfitta del nazifascismo. Letta, premie e rincaricato. Ruta, passione e competenza. Il senatore molisano fiducioso sul percorso che attende l'amico e coetaneo. La sfida potrà essere vinta. Bene, da primo piano invece leggiamo insieme i fatti del nuovo Molise. Anche qui la politica in primo piano. Frattura si cambia. Basta incarichi all'Istituto Autonomo, Case Popolari di Campobasso e all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Francesco Di Falco e Bruno Verini saranno sostituiti. Soluzione interna a costo zero con i dirigenti regionali. Il Molise celebra il 68esimo anniversario della liberazione. Venafro Pietracupa riesce ad attrarre anche il PD comunale verso soli due schieramenti. Economia, risorse fresche in arrivo per l'ITR, incontro tecnico tra azienda e sindacati. Coca e marijuana, termolincella, spacciatore trentenne, deteneva 230 grammi di sostanza stupefacente. Riccia, raccolta differenziata, campagna informativa. Il porta a porta sarà operativo da luglio. Università Molise per il rettore sfida a due candidati sono Coppola e Palmieri. Vasto arrestato il piromane d'auto terrore della città, i carabinieri lo hanno finalmente individuato. Leggiamo anche qui le prime pagine interne dei fatti del nuovo Molise. Quinto assessore Lira del centrodestra. i consiglieri annunciano battaglia contro la delibera che vuol modificare il numero dei componenti della giunta, il confronto in consiglio regionale. Fimmo Lise SRL deve essere liquidata, Massimiliano Scarabeo sostiene la sua intenzione di eliminare le società partecipate. La regione aveva già adottato una delibera per chiudere un proprio clone. In carico Enrico Letta, gli auguri del coetaneo Ruta. Enti commissariati a guida interna saranno gestiti a costo zero dai dirigenti regionali. Si comincia con gli ACP di Campobasso e l'AS di Termoli. Piano sociale, confronto con Petraroia tra i punti trattati. La necessità di erogare i fondi delle annualità per il 2011 e il 2012. E ancora filiera avicola, percorso condiviso per il rilancio, riunione in giunta con allevatori e trasportatori. Bene, vediamo invece adesso la pagina molisana del tempo. Allarme di ossina via al monitoraggio dell'aria. Sono state le mamme per la salute a trovare tracce del veleno nel latte. Isernia, la provincia affidato i controlli alla società italiana di medicina, si comincia il 6 maggio. Il comune incontra i cittadini per spiegare la raccolta differenziata. Siamo appunto a Riccia, mentre ancora Isernia e il governatore sosteniamo Brasiello. Termoli in arrivo 470 mila euro per riqualificare la banchina del porto. Poi troviamo appunto gli episodi di cronaca Campomarino minacciata con la siringa e rapinata della fede. Agnone riparte la mobilitazione per salvare l'ospedale. Nuovo ricorso contro i tagli previsti nel piano sanitario del commissario Basso. Ecco, con la stampa locale abbiamo terminato, passiamo a quella nazionale e iniziamo proprio dal tempo. La missione possibile di Enrico Letta, Premier, accetta l'incarico con riserva. Non si farà un governo a tutti i costi. Squadra ristretta di ministri con pochi big nell'agenda misure sull'occupazione. La linea del PDL Berlusconi categorico, non vogliamo veti. Spaccatura tra i democratici. PD contento a metà aspetta l'ascesa di Renzi. Serve condivisione un 25 aprile decisivo tra memoria e presente. La fondo di Papa Francesco, lo IOR è necessario fino a un certo punto. Mentre l'Aquila, per l'Aquila solo 500 milioni di ricostruzione e i fondi sbloccati dal governo sono la metà di quelli attesi. Bene, vediamo adesso invece la stampa. Governo Letta, il nodo PDL, lavora una squadra di 18 ministri, esecutivo di servizio, ma non a tutti i costi. Programma e nomi. Il centrodestra chiede garanzie e non vuole i tecnici di Monti. Una rincorsa a lunga, 15 anni, tasse attese irrealizzabili. Guida del PD, Renzi ora frena. I democratici scatta la corsa alla poltrona. Timori per la reazione della base all'inciucio. Alla Bolognina, un 8 settembre, tra i militari anche Prodi Junior e c'è chi piange. Vediamo invece Lega. Belsito finisce in cella. Spese 2,5 milioni per lo yacht di Bossi Junior. Basilicata Blitz per i rimborsi. Tre arresti in regione. Sedimette il presidente. Bene, vediamo adesso invece il messaggero Letta, l'ostacolo dei 18 ministri. Questo è il titolo riportato in prima pagina. In carico al vice segretario PD. Governo, ma non a tutti i costi. Oggi consultazioni, sabato giuramento. Il PDL avverte, serve un altro profilo politico. Via Limu, mal di pancia PD, salgono i no al governissimo. Il retrocena dal subuteo all'aspe. Nel rico, il trasversale. L'argentese, banco di prova a tutte le incognite. 25 aprile, grillini pronti a disertare i raduni ufficiali. Appunto le celebrazioni di oggi. Esteri, duello, amato d'Alema, saccomanni verso l'economia. Alfano e Mauro, vice premier. Braccio di ferro sulla giustizia. Vediamo invece adesso Libero. Un lettino per il PD. Questo il titolo che riporta Libero. Non volendo far esplodere il partito napolitano dall'incarico all'eterna promessa Letta Junior. Brava persona, ma troppo debole per un governo che dovrebbe portarci fuori dalla crisi. Ma lo slalom dell'ex DC rischia di finire fuori pista dal fatto ai grillini siciliani gli pasdaran della guerra civile. Re Giorgio precetta la stampa. Le critiche non sono previste. Befera lo sceriffo del fisco costretto a deporre le armi. Cambia il clima politico su Equitalia. Arrestato l'ex tesoriere del Carroccio. Belsito, coi soldi della Lega, anche lo yacht per Bossi Junior. Bene, vediamo invece adesso l'informazione sportiva e leggiamo insieme il Corriere dello Sport. In prima pagina la Juve su Robben. Non solo Ibrahimovic per una grande squadra. Agnelli pensa anche al talento del Bayern. Per Guardiola non è incedibile. Suarez si prende dieci turni per il Morso. Milan la difesa cambia. Si tratta con l'Udinese. Il Napoli ha un'idea. Pazzini al San Paolo. L'obiettivo è un bomber. Moratti, Andanovic resta all'Inter e compro. Strategie nero-azzurre. Respinto invece il ricorso. Rosso-blu. Cagliari-Roma finisce 0-3 anche al Tar. La crisi. Bianco-Celeste. Lazio, Lotito prepara già la rifondazione. Dopo il flop. Domenicali, Ferrari, ora la perfezione. Melandri, Biaggi, devi ritornare. Quindi novità in Superbike. Questa era l'ultima notizia sportiva. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Italia e all'estero. Previsioni del tempo per la giornata di giovedì 25 aprile. La circolazione depressionaria in azione nei giorni scorsi sulle regioni meridionali lascia spazio ad un generale rinforzo della pressione con ampie schiarite alternate e noque velature. Venti deboli con mari tendenti a poco mossi, temperature senza variazioni significative. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 15 gradi. Isernia minima 12, massima 16. Termoli minima 12, massima 18 gradi. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.